Sono arrivati e si sono messi subito a suonare Sabato pomeriggio 27 compagnie provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Croazia, Slovenia e due dall'Italia, Sales e Mugia, hanno sfidato e suonato per il centro cittadino sfoggiando i loro costumi con i colori arancione, verde e nero Satisfa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. In Piazza Unità hanno concluso il loro soggiorno a Trieste, regalandoci ancora la loro musica e la loro allegria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.